Giuro che non ve voglio ammorbà, giuro che non ve voglio rompere i coglioni, io però una cosa la voglio dire, anzi sono due, e la seconda, come la prima, voglio un vostro pensiero rivolto a tutti quanti, sul primo su tutti quanti, e il secondo pensiero voglio un pensiero vostro da parte di tutti i tifosi della Roma come me. Semplice e conciso, non ve rubo troppo tempo, intanto scusatemi prima per la postazione, insomma che sto sempre nella postazione delle mie moglie dove fare unghie e situazioni, e scusate poi che faccio proprio schifo con sta luce bianca, con sta barba brutta, con questi pochi capelli, sembra il fio di, vabbè meglio non dirlo, sembra il fio di Calimero, ecco famo prima. Scusate quindi per sto doppio schifo, magari se non vi piace quest'ambiente rosa, capito, per le mani, postazione per le mani, soprattutto non vi piaccio io con sta barba e con questi capelli, lasciate perdere, sentite solo quello che c'ho da ribbe, e fermatevi là. Allora, il discorso qual è? Oggi il giudice sportivo emette le sanzioni, no? Del weekend, e la Roma viene sanzionata per duemila euro, viene sanzionata con duemila euro di multa, perché previamente tra l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, per risalire a giocare il secondo ci ha messo troppo tempo. Quindi è stata considerata una perdita di tempo. Allora, a me non è che dà fastidio il fatto che tu sanzioni la perdita di tempo e i duemila euro, che tanto per questi che guadagnano i milioni d'euro, sono spicci, sono come i cinque euro che c'è monasa e coscia nostri. Però, quello che dico io, no? A me va bene la sanzione, mi pio tutto e va bene quello che te pare. Ma però, quando la sistemate, quando le sanzionate tutti quei giocatori, tutte quelle società che lo usano come mezzo antisportivo durante una partita, perché noi ci scordiamo tutti quanti che il timer dice che la partita si è giocata per 90 minuti, più recupero, ma se andiamo a guardare il tempo effettivo, poi di gioco alla fine della partita si è giocata per 70 minuti, 65-70 minuti, con tutta quella gente che perde tempo a terra, che ha la minima spallata, sta lì, oddio, ricavano, oddio, la frattura, la lussazione dalla spalla, e se perdono 6-7 minuti, 10 minuti dopo un'altra 6-7 minuti per terra, a fine recupero ti viene dato 3 minuti, e tu all'effettivo hai giocato 65-70 minuti, ma lì tutte queste sanzioni, tutte queste situazioni che vanno sistemate, quando le sistemate, scusate il gioco dei parole, quando le sistemate, che si dice che si gioca una partita per 90, alla fine si dispurano 70 minuti, quando le sistemate queste cose, state lì puntigliosi, a contare pure i peli del culo alla Roma, pure i peli del culo state a contare alla Roma, no, guardate qua e là, 3 minuti di ritardo, ci ha messo 3 minuti a risale in campo, al derby, al secondo tempo, ma queste cose quando le sistemate? Quando è che ve sistemate? Quando è le sistemate queste cose? A me danno fastidio, perché io sono una persona dei principi, è vero che non puoi, pretende chissà che cosa, perché il carcio è questo, e tanto comandano sempre i forti, e qua e là, legano a merda, sono d'accordo con tutto, però se siete così fiscali su tutto, tipo quando un carciatore bestemmia, uno bestemmia, viene sanzionato, che quella era cristante, ma ricordate? Allora, bestemmiano tutti, così la faccio prima, bestemmiano tutti, chiaramente che cosa succede? Lo fa uno della Roma cristante, lui è sanzionato, squalifica l'altro di tutti a barra, a piazza del cappuccino, come se fosse successo niente, ma questo non è per fare la solita vittima, ci hanno tutti contro la Roma, i complotti, le situazioni, però se siete così fiscali, cercate di esserlo per tutto, cercate di esserlo per tutto, volete da una sistemata? Cominciate a sistemare pure questo fatto dei perditi del tempo, perché è inconcepibile che su 90 minuti del gioco se ne giochino 65-70 perché 20-25 minuti per andare a raccogliere, capito, le foglie e le erbacce da rettangolo del gioco perché devo stare là, aspetta che quello sta per terra per un quarto d'ora, per una spallata o per mezzo calcetto, se scordiamo sempre, capito, se lamentiamo di falli ed è qua e là, ma se scordiamo sempre che il calcio è un gioco maschio, è un gioco di contatto, se vogliamo andare a vedere i ballerini che al minimo contatto stanno per terra un quarto d'ora, andiamo a vedere se capito chi fa teatri e spettacoli di danza classica. Ecco quello che mi dà urte e quello che mi dà fastidio a me al cervello, perché sono fiscali su tutto, ma le situazioni vere, con i problemi veri all'interno del calcio che sono tanti, soprattutto in quell'italiano dove c'è tanta politicanza e tanta altra merda, se proticassero assiste male queste cose invece le stanno a fare i fiscali, du mila euro a Roma perché è ritardato tre minuti e ha risalito ai sfogliatoi l'anima degli mortacci vostri, e qui voglio sapere che ne pensate voi, tutti i tifosi, tutti, non solo quelli da Roma, ma tutti i tifosi che mi seguono, voglio sapere che ne pensate voi. E seconda cosa, questo è un po' più leggero, era semplice, veniamo da un mese di gioco, di un mese da parte di Roma, giocato in maniera importante nel senso dispendioso, con tante partite all'attivo, no? Soprattutto le ultime due settimane dove ne abbiamo giocate quattro di fila, e oggi la Roma è tornata ad allenarsi e a fine allenamento Mourinho ha regalato alla squadra cinque giorni di riposo, e si ritornerà a lavorare per preparare la Samp da lunedì. Allora, io vi dico il punto di vista mia, su tutti i giorni di riposo, dati ai tempi, non ero d'accordo e l'ho sempre detto. Visto l'ultimo mese dove ci siamo impegnati, dove abbiamo giocato tante partite, dove altrettanti giocatori ad oggi sono, con le rispettive nazionali, quindi siamo anche con una rosa ristretta, io vi dico, fa rifiatare un po' la rosa, fa rifiatare un po' la Roma, ci sta. Quindi per me un po' di riposo ci sta. Ovviamente magari cinque giorni sono troppi, avrei fatto soltanto due, tre, cinque sono troppi, però per me ci sta. Visto l'impegno e visto lo sforzo dell'ultimo mese che ha impiegato, veramente che ha visto la Roma impegnata in tante partite. Quindi volevo sapere se siete d'accordo con questi giorni di riposo, se sono meritati, se ne da essere meno come me, se vanno bene così, voglio sapere la vostra. Questo è riguardante tutti i riposo di Roma, io ripeto, sono concordi, ad oggi sono concordi, ad oggi. Su quello che era successo prima, su tutti i giorni di riposo, vecchi no, ma su questo sì perché ripeto alla Roma ha speso tanto e sta pausa nazionale per me, alla Roma, per me e per la Roma arriva proprio al momento giusto, precisa, precisa, precisa. Quindi fatemi sapere quello che pensate voi, se siete d'accordo con le due cose che vi ho portato in esame, in oggetto, lasciate un bel pollicione, vi auguro una buona serata e se vediamo domani sera in live sul mio canale YouTube. Buona serata a tutti e sempre sempre Forza Grande Roma!